Cari amici, buonasera. Abbandoniamo il solito sistema che ci vuole a parlare di cose grigie. Quest'oggi parleremo di cose belle, perché il titolo è La banca si fa bella. Sì, quello che può essere definito un territorio arido per eccellenza, fatto di numeri, di percentuali, di spread, può diventare anche un momento di confronto, un momento di confronto rilassato su temi importanti, ma spesso e volentieri lo stress non aiuta assolutamente a fare le cose serie. Allora, la bellezza, come i greci ci insegnano, è qualcosa che non è soltanto individuabile dal punto di vista prettamente estetico, ma ha a che fare con il ragionamento, con la filosofia, con il modo di affrontare i problemi. E a parlare con il direttore generale della BCC di San Marzano, Emanuele Di Palma, quest'oggi, questa sera, uno specialista. Parlo di Vito Scalabrino, che vado a salutare, presidente del Quadrato General Contract. Mi piace ripetere quanto leggo sul sito del Quadrato ai nostri telespettatori, ovvero come armonizzare un insieme di quattro punti di forza del progetto. Analizzare, rendere esecutivo, qualificare e realizzare gli spazi vitali per il lavoro e le persone. Dunque, come vedete, si entra a gamba tesa su temi importantissimi, perché sì, si parla del rapporto con la clientela, ma si parla anche e soprattutto di come si lavora all'interno di una banca. Quindi questi spazi, come vedete anche, e lo diciamo con un pizzico di orgoglio, in quella che è la nuova direzione generale della BCC di San Marzano, di San Giuseppe, significa far lavorare meglio anche i dipendenti. Allora, una profonda trasformazione, quella che viviamo, del sistema bancario, che vede anche un atteggiamento diverso nei confronti dell'estetica delle banche. Scalabria. Premesso che questo tipo di interventi li abbiamo sempre fatti, ma sicuramente negli ultimi 10-15 anni stanno diventando, secondo me, elemento indispensabile. Quindi, diceva bene lei, la banca generalmente non ha mai fatto banche belle, perché si parlava solo di quel rapporto tra il cliente e la banca dietro un bancone o dietro una scrivania. Quindi il nuovo trend delle banche che finalmente hanno attuato e da alcuni anni anche i più grossi istituti bancari hanno cominciato a fare la nuova banca, che si presenta sicuramente bella, ma oltre che bella, ovviamente cambia il rapporto proprio con la clientela. Anche cercando, pure le banche web, chiamiamole così web, anche qui loro stanno facendo delle sedi di rappresentanza, perché non vogliono mai perdere questo rapporto di accoglienza e di relazione col cliente. Grazie. Grazie.